C'è tanto nel bicchiere mezzo pieno del team Altamura dopo l'1-1 del Dei Ulivi di Andria contro la Fidelis. C'è la conferma del valore di una rosa che è tutte le carte in regola per giocarsi la promozione tra i professionisti sino al termine della stagione. C'è la difesa della leadership solitaria in classifica nel girone H di Serie D. C'è spazio però anche per l'altra metà del bicchiere, quella mezza vuota. I murgiani infatti non sono riusciti a custodire il momentaneo vantaggio realizzato da Enrico. L'Andria infatti l'ha pareggiata in avvio di ripresa con Strambelli sul rigore contestato dagli altamurani. Le partite vanno così, se non riesci a fare il gol, un palle così determinante per chiudere una partita altrettanto determinante per la classifica, è normale che dopo alla fine magari con un rigore dubbio, una palla mezza e mezza rischi anche di perderla. Guardava tutte le rivali dall'alto verso il basso prima della trasferta del Degli Ulivi, continua a guardare tutte le rivali dall'alto verso il basso l'altamura anche dopo la sfida con la Fidelis, ma la classifica nei quartieri che contano. Resta cortissima più uno sul Martina, più due sulle altre tre squadre sin qui imbattute, vale a dire Andria Paganese e Fasano. C'è la tendenza molto spesso a giocare a nascondino, i murgiani in realtà non lo hanno mai fatto, non hanno mai nascosto le loro ambizioni. Sono i programmi della società, sono i programmi miei, personali, sono i programmi della squadra. Facendo queste prestazioni è normale che l'asticella si alza, il proprio io si alza e cercheremo di dare fastidio a tutti. Andria è alle spalle, dietro l'angolo però c'è un ciclo terribile di quattro partite. Nardo domenica prossima al D'Angelo, Casarano al Capozza, Angri ancora in trasferta e Martina in casa, non male come ulteriore test per verificare la consistenza del collettivo biancorosso murgiano.